Sono il piccolo ruby e oggi voglio farvi le letture del mese di febbraio. A febbraio ho letto come a gennaio, ovvero sei libri, spero a marzo di leggere di più. Sono stati voti abbastanza alti, sono stati letture abbastanza soddisfacenti, a parte per una che vabbè non è che si può fare sempre delle belle letture. Allora il primo romanzo che vi vado a mostrare, vi ho già fatto una recensione, vi ho sviscerato il tutto, è un romanzo bellissimo che vi consiglio perché è eccezionale, perché è veramente emozionante, sto parlando di Io sono il messaggero di Mark Zusak. Io non ho letto la storia della ladra di libri, quindi non posso fare un paragone tra le due opere, ma un giorno spero di recuperarla. Io ho l'ottica che se poi vedi il film prima del libro poi non ha senso, infatti non sono andato a vedere la quinta onda perché volevo leggere più i miei libri. È un libro bellissimo, un libro emozionante, un libro che fa riflettere di che cosa parla brevemente, parla praticamente di Ed Kennedy, che un giorno sventa una rapina, che poi tra parentesi sto rapinatore è un incapace. Da quel giorno gli arrivano delle carte da gioco con degli indizi e questi indizi li porteranno a conoscere delle persone e lo porteranno ad aiutare queste persone in varie situazioni, in varie situazioni che non sono tanto belle. Le ultime carte che lui riceve sono indirizzate ai suoi amici e l'ultima è indirizzata a lui. Per quale motivo? Chi gli ha mandato queste carte? Qual era veramente lo scopo? Leggete il libro. Io ho dato 5 stelle su 5 perché è stato veramente eccezionale. Questa è la copia della biblioteca, io spero di recuperare una copia mia perché ne vale veramente la pena e voglio avere nella mia libreria. Il secondo libro che vi mostro è della rubrica La banana al mese e sto parlando di L'abito di piume della Yoshimoto. Libro abbastanza semplice, cioè piccolino, però è molto introspettivo, è molto trascendentale, molto surreale, com'è la Nemirovski, no? La Yoshimoto. Io confondo la Yoshimoto con la Nemirovski, vabbè. Allora, di che cosa parla brevemente? Parla brevemente di Otaru che incontra Mitsuro. Sì. Lei ha avuto la sensazione di aver già incontrato questo giovane, è la sensazione che ha avuto anche la nonna, però non sa né dove né quando e quando lo scoprirà vi sorprenderà scoprire dove i due si sono incontrati. Ed è un romanzo, insomma, abbastanza che tratta il tema, vi dico solamente, tratta il tema dell'aldilà della morte e basta, quindi vi posso dire solamente quello. È un libro molto, molto bello, mi è piaciuto. Io ho scoperto che la Yoshimoto in Giappone è considerata un po' come noi consideriamo Fabio Volo. Adesso io non so se questa informazione sia vera o meno. Però è un peccato, perché comunque è vero che la Yoshimoto non scrive di questi libroni, ma comunque scrive dei libri che fanno riflettere, scrive dei libri molto, molto originali anche a volte. Vabbè, io ho letto solamente Il Lago e questo, per il mese di marzo, poi ve lo mostrerò a fine video. Però è stato veramente molto bello, l'ha dato 5 stelle su 5 perché ne vale veramente la pena. Il libro che invece ha preso 2 stelle e mezzo su 5 è stato Morbose Fantasie di Tanizaki. Morbose Fantasie parla di questo Sonomura che trascina il suo amico a vedere uno spettacolo, ma non è un bello spettacolo in quanto si tratta di un omicidio. Questa donna ha già ucciso questo tizio, questo, questo, insomma questo tizio in questa camera d'albergo. Soltanto che non si viene a sapere chi ha ucciso cosa e per quale motivo. Da quel momento Sonomura ha un'ossessione per questa donna. Lui vuole conoscere questa donna, vuole capire perché questa donna ha fatto quello che ha fatto e successivamente decide di entrare a, insomma, in contatto con questa donna. Il romanzo mi è piaciuto, però, ci sembra un però. Allora, innanzitutto penso che alcune cose andavano veramente approfondite, come l'incontro poi che avverrà tra Sonomura e questa donna misteriosa. Doveva anche essere comunque approfondito il personaggio della donna, che è veramente molto, molto velato. Però devo dire che, nonostante il romanzo non sia stato scritto l'altro ieri, è un romanzo veramente attuale, perché comunque la nostra società è una società che ama la morbosità, che ama il dettaglio. Come accendiamo la televisione siamo abituati a sentire parlare di delitti nei minimi particolari, che cosa ha fatto l'assassino, le scarpe di cui il tragitto che ha fatto. Quindi è una società abbastanza morbosa, siamo una società abbastanza morbosa e siamo anche una società di voyeur, se vogliamo dirla tutta. Vabbè, il caso eclatante è la casa del grande fratello, per dire. Però, insomma, questo aspetto è del voyeurismo, del vedere attraverso una serratura, che poi, vabbè, non è che mi metta a spiare gente dalla serratura, come i film di Lino Banfi, tipo Giovanna Nonna Coscia Lunga, che c'era la tizia che si spogliava, eccetera. No, è, diciamo, comunque una metafora, no? Perché, vabbè, quella è la società del grande fratello, ma siamo comunque alla ricerca del morboso e appunto del voyeur, e del fatto che non ci facciamo mai i cazzi nostri. Quindi è un romanzo veramente attuale, è un romanzo molto bello, alcune cose però dovevano essere approfondite, secondo me, perché viene lasciato tutto abbastanza così. Infatti se Tanizaki scriveva altre, qualche, qualche pagina in più, magari avrebbe dato più spessore al libro. Non me la sono sentita di inserirlo nella mia rubrica della letteratura erotica, perché al momento non ho visto niente di erotico. sì, c'è la questione appunto del voyeur, della donna che insomma ha la capacità di fare all'uomo quello che vuole, però insomma non me la sono sentita, e quindi la mia rubrica nel mese di febbraio è saltata. Nel mese di marzo spero di... no, spero niente, ci sarà la puntata e vedrò se riuscirò a raddoppiare, non lo so. Comunque è una lettura che vi consiglio, è stato abbastanza... abbastanza carino, insomma, confrontarmi con questo scrittore giapponese, e insomma mi è assolutamente piaciuto. L'altro libro che però non vi mostro, perché fa parte del librone, è Il malinteso della Nemirovski. Ho deciso quest'anno di affrontare tutti i libri della Nemirovski, fino a Suite francese, perché Suite francese l'avevo letto precedentemente, e ho deciso di andare in ordine cronologico, e il suo primo romanzo appunto è stato Il malinteso. Di che cosa parla Il malinteso? Il malinteso parla di Ives, che si trova in vacanza, in questo posto che dovrebbe essere vicino alla Spagna, se non ricordo, ma... cioè, geograficamente parlando dovrebbe essere nel confine tra la Spagna e la Francia, ma non vorrei dire una cagata, comunque. E incontra questa Denise, che è una donna sposata con dei figli, e tra i due nascerà un qualcosa. Solo che questa donna incomincia ad avere dei comportamenti ossessivi nei confronti del nostro caro Ives, scritto I lunga B e S. E poi la storia avrà uno sviluppo, insomma, un po' così, ecco. Poi il finale è un po' così. Diciamo che comunque la tematica è veramente molto bella, quella appunto del tradimento, dell'amore, eccetera. Solo che ho visto una Nemirovski abbastanza acerba, cioè abbastanza lontana da Suite francese, che ricordiamo è stato il suo ultimo romanzo incompiuto. Però voglio dire, ci sta, perché siamo nel 1926, lei sta, è il suo esordio letterario, e quindi ci può anche stare che il romanzo non sia questa grande cosa, ecco, insomma. Però è stata una lettura abbastanza piacevole, è stato un libriccino molto piccolo, sono poche 100-120 pagine, 130, ecco, insomma. Però è stato un romanzo molto carino. Gli ho dato quante stelle aspettate? Tre e mezzo su cinque. Perché nonostante tutto è stato abbastanza... abbastanza bello, ecco, insomma. Si discosta molto dalla tematica appunto della guerra, dalla tematica dell'ebraismo e quant'altro, cosa che poi vi approfondirò bene. Il romanzo che poi è entrato a far parte dei libri di merda è stato Il diario del vampiro che ho letto per il domino letterario, che è stato veramente una ciofeca, è stato veramente orrendo. Di che cosa parla? Brevemente parla praticamente della nostra cara Elena, che vive con la zia, rimasta orfana, che incontra il solito vampiro. Si chiama Stefan, è italiano, e i due si incontreranno a scuola, nonostante lui abbia circa 300-400 anni. Vabbè, non si è mai troppo vecchi per imparare. Lei se ne innamora, ma lui la tiene a distanza, in quanto le ricorda una persona che lui ha incontrato nel passato, una certa Katrin, che l'ha fatto abbastanza soffrire. Diciamo che è stato un romanzo molto diverso da quelli che ho letto, molto diverso dal solito copione della bella deficiente, che incontra lui il belloccio, pettoralato, addominalato, che se la tira ogni tre secondi. Diciamo che si discosta molto da quello. Si avvicina molto a Twilight per l'aspetto del vampiro molto misterioso, che sta sempre sulle sue e che può trarre un certo fascino. E si discosta anche dal fatto che lei, come ho detto, non è la sua vita deficiente, che inciampa ogni tre secondi, che cade, eccetera, eccetera. Anzi, forse è fin troppo esagerata nei suoi comportamenti, ovvero è una che se la tira, che se la mena, io l'ho rinominata Golden Pussy, è una che ha le sue ancelle che le girano intorno, eccetera, eccetera. Ci sono alcuni aspetti del libro che non mi sono piaciuti e trovo che il libro sia stato solamente scritto così per poi farci dei seguiti, ecco. E quindi non mi è assolutamente piaciuto. Continuiamo con Drago Nero. Questo invece è un libro che mi è piaciuto assolutamente. Drago Nero è un libro tratto da una di Luca Eno, che è risveglio del potere, tratto da un fumetto, appunto Drago Nero. Allora, di che cosa parla brevemente? Brevemente parla di questa terra dove i draghi che vivevano sono stati esiliati in questa terra. Un giorno si scoprirà appunto l'uovo, questo uovo di Drago che si schiuderà e al suo interno ci sarà appunto il risveglio di questo Drago. Questo Drago è il Drago più potente che sia mai stato, che sia mai esistito. E il nostro eroe di turno, che non mi ricordo come si chiama, dovrà portare il Drago nella terra appunto dei draghi, in questa terra dove i draghi sono stati esiliati. Prima che gli Elfi Ombra, se non sbaglio con i nomi veramente, gli Elfi Spetri, riusciranno a mettere le mani su questo Drago e a far ritornare tutti i draghi per prendere il potere e prima che succeda appunto il patatrack finale. Ci sarà appunto un viaggio con dei risvolti abbastanza belli e un finale che sinceramente non ho capito se poi ci sarà un continuo o meno. Io ho scoperto... Aia, mi sono morso la lingua. Io ho scoperto che questo libro è il secondo volume perché il primo volume si chiamava... Non mi ricordo, comunque vi metto la copertina qui. Allora, però tra il primo e il secondo volume non c'è un continuo, nel senso che non sono due romanzi continuativi, nel senso che il primo e il secondo sono romanzi autoconclusivi, però mi piaceva leggere magari il primo e sapere determinate cose, questo non lo so. Ma non so neanche se sono autoconclusivi, sto dicendo delle cose a caso perché ho il dente del giudizio che sta venendo fuori e mi fa un male tremendo. A 30 anni, rendiamoci conto. Bene, comunque, non è stato questo capolavoro fantasy, però è stata una bella lettura, mi è piaciuta, mi è piaciuto anche il tema del viaggio che viene affrontato anche in maniera molto diversa, mi è piaciuto il personaggio dell'orco, molto simpatico, e la custode appunto di questo drago, cioè, no, scusate, il custode di questo drago che è incaricato di portare il drago nella sua terra, rivelerà molte sorprese. Ecco, è un libro abbastanza carino, poi io amo i draghi, e gli ho dato 5 stelle su 5. Però, al momento, vi dico, non ho capito se poi ce ne sarà un terzo e se il primo e il secondo siano collegati. Io ho letto la trama del primo e sinceramente sono due cose abbastanza diverse, adesso non lo so. Non vorrei aver fatto una cagata, comunque spero di recuperare anche il primo. Le letture sono finite? Sì, sì, sono finite. Queste sono le mie letture che ho fatto nel mese di febbraio, fatemi sapere quali sono state le vostre, e adesso vi mostrerò quello che vedrete nel mese di marzo. Allora, per la rubrica della Yoshimoto vedrete Kitchen, eccolo qui, che è stato nei miei acquisti. è già in lettura, io ho tanti libri in lettura e adesso devo, ho un caos interiore e esteriore, vabbè, comunque Kitchen della Yoshimoto. Poi, per la mia rubrica della letteratura erotica vedrete Emanuele, di Emanuele Arsana, che questo è in lettura, l'ho incominciato, è veramente molto bello da quello che vi posso dire. E poi, il libro del domino letterario sarà La Compagna dell'Anello, del primo volume, del Signore degli Anelli. Eccolo qui. E poi le altre letture che verranno a random a seguito. Vi dico, spero di riuscire a leggere più libri possibile nel marzo. E per la rubrica Libri di Merda aspettatevi tante sorprese. Bene, il video è finito, io vi rimando al prossimo video, rimanete sintonizzati qui sul canale del Piccolo Ruvi, come sempre, vi mando un grosso bacione schioccante, alla prossima. Ciao!